La notizia era nell'aria, anticipata di quasi 24 ore dal quotidiano 8 pagine. Il comune di Avellino corre di nuovo ai ripari contro lo smog in città. Blocco della circolazione, verifica dei parametri di funzionamento degli impianti termici, regolamentazione dell'accensione dei motori di autoveicoli e autobus e controlli sulla bruciatura dei residui vegetali. Sono queste le misure previste nell'ordinanza sindacale. La relazione ARPAC dei dati raccolti dalla centralina in piazza Kennedy è impietosa. Rilevati superamenti delle soglie previste dalla normativa vigente per il biossido di azoto e per le polveri sottili PM10. E allora ecco che torna il blocco della circolazione su tutto il territorio comunale. Si ripete l'esperimento non proprio felice dello scorso novembre. Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, nelle giornate di mercoledì 8, 15, 22 e 29 aprile e di venerdì 10, 17 e 24 aprile e nelle giornate di mercoledì 6, 13, 20 e 27 maggio e venerdì 8, 15, 22 e 29 maggio. Stop di due mesi per i veicoli alimentati a benzina pre-euro 1 ed euro 1, i veicoli alimentati a gasolio pre-euro 1, euro 1 ed euro 2, ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1. L'ordinanza dispone anche che il corpo di polizia locale effettui un continuo e rigoroso controllo del numero di stalli occupati dagli autobus che stazionano nei capolinea di Piazza Kennedy e Piazzale della Resistenza. Inoltre in tutto il territorio comunale dall'8 aprile al 31 dicembre 2015 scatterà il divieto di mantenere acceso il motore degli autobus nella fase di stazionamento anche al capolinea, accensione che dovrà essere limitata soltanto ai 5 minuti prima della partenza. Di vieto che si estenderà anche agli autoveicoli in sosta e ai veicoli merci durante le fasi di carico e scarico. Infine è vietata su tutto il territorio comunale la bruciatura di vegetali, residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli e negli orti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati. Con questa ordinanza e il commento dell'assessore all'ambiente Giuseppe Ruberto contiamo di migliorare la situazione ambientale cittadina riservandoci però di valutare l'introduzione di ulteriori provvedimenti all'esito di successivi monitoraggi che saranno effettuati su tutto il territorio comunale.